fedez ha condiviso un aggiornamento su scena unita il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo fermi da oltre un anno a causa della pandemia il cantante ha fatto sapere che sono stati raccolti più di 4 milioni di euro l'artista ha precisato che un milione 800 mila euro sono già stati devoluti a lavoratori ed imprese in difficoltà il prossimo obiettivo del gruppo come ha spiegato il cantante sarà aiutare aziende e lavoratori mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto